Avrebbe messo in atto una vera e propria persecuzione con continue vessazioni e sofferenze morali oltre che psicologiche nei confronti di una 19enne rumena. Parliamo di un uomo di 63 anni vibonese arrestato per il reato di stalking nei giorni scorsi. L'uomo è stato braccato dai carabinieri della tenenza di Rosarno nel Regino a seguito della denuncia presentata dalla giovane donna dopo un momento di esasperazione al culmine di una serie di umiliazioni e intimidazioni subite dall'ex compagno. Immediato il dispositivo attivato dai militari che attraverso un'attenta e continua attività di indagine hanno potuto riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla vittima. In merito alle incessanti minacce subite del soggetto a mezzo telefono e messaggi circa la diffusione illegale dei suoi video e foto privati fino ad arrivare a rintracciare lo stalker. In particolare gli uomini dell'arma sono riusciti ad intercettare quest'ultimo a circa 200 metri di distanza dall'abitazione della donna e procedere così all'arresto ponendo fine alla dolorosa vicenda vissuta dalla povera malcapitata. Il 63enne è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi a disposizione dell'autorità giudiziaria con le accuse di atti persecutori e diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito.